Ieri a un certo punto di The Voice, Jay Axe, come c'era ospite Fedez, ha avuto una geniale idea, è andato lì vicino, si sono messi in posa così e dice adesso noi ci inventiamo il Telfi, cioè la gente si mette davanti al televisore, ti fa un altro scatto e ce lo invia. E chi è stato il primo nel mondo, in Italia insomma, a inviare questo scatto? Chi è stato? Non lo so, chi è stato? Sono stato io. Sei stato tu? Sono stato io, infatti ho ricevuto una marea di mi piace, di ricondivisioni, di stellette, preferiti, tutto. Non stai proprio avanti. Passo avanti perché questo si sta inventando qualcosa, quindi ho scelto subito il cellulare e ho detto vediamo che si sta inventando. Come ho detto, mi sono affiondato al televisore. Perché tu sei un... Io sono social, molto social, sono attivista, sono social e quindi a me non mi potete fregare con queste situazioni, capito? Quindi il primo in Italia a mandare la foto io sono stato. Sono con Giacis. Saluto al grande Jay Axe che è sempre... no? Sempre innovativo. Innovativo, innovativo. Saluto a Fedez e a tutti. Grazie. Ciao.